Ciao amori, come state? Bentornatemi a un nuovo video! Sono qui oggi, se avete letto sotto il titolo, oggi abbiamo la nostra sorpresa insieme! Allora, l'ho comprato perché dovevo fare una cosa e non me l'ho detto perché volevo fare la sorpresa, come la scatola! E quindi, allora, noi possiamo iniziare subito il nostro video! Ciao Cazione! Allora, apriamo la nostra surprise! Non è che bisogna pigiare eh? Non bisogna! Andiamo ad aprirlo! Mamma mia che ansia, chissà cosa ci troviamo dentro! Ma cosa andiamo a pescare? Che cos'è? Ah sì, è quello da tenere davanti alla schiavania Questa qua! Questo! Vabbè! Nel tipo dentro sono sei, dentro... Ok! Andiamo a pescare qualcos'altro! Caricatori! Ma dell'iPhone! Ma che cosa? What? Io non ho l'iPhone! iPhone 5, 5C, 5S, 6S, 6S+, 6S, 6S+, 7, 7+, 8, 8+, X, XR, XS, XSS, Max, Pro iPod Yeah Ho capito tutto Beh Dettagli Per chi lo volesse Contattatemi anche blu Dettagli gente Andiamo a pescare qualcos'altro A parte che abbiamo finito Questa qui è già vuota Cos'è sta cosa Eh sono cuoricini Biglietti con bus A due pezzi C'è interessante Guardate Andiamo a scartare L'ultimo oggetto Wow Il selfie Andiamo ad aprirlo A parte ce l'avevo Non mi sapeva È andato Non si apre Che cosa Vediamo che colore è Vediamo che colore è Che è a regola Che è a regola A regola Come a regola Qui c'è il cosino Che va al telefono Se c'è il telefono Ah si ce l'avevo il telefono Qui lo dobbiamo collegare A qui A qui E poi Andiamo a parte Questo telefono è spento Quindi poi andiamo a fare le foto E andiamo a scattare Con questo Con questo qui Oh noi Mi ci viene da ridere Di tutte le scatole Che potevo prendere Ho trovato questa scatola E l'ho presa una a caso Gente Non lo so Ragazzi L'ho presa una a caso Allora Questo è l'ultimo regalo Che ho trovato Dentro la nostra scatola Che Vabbè Ho schiacciato un po' Ho schiacciato un po' Vabbè Comunque Noi ci vediamo Di già Nel prossimo video Perché A parte che Era meno se ne prendeva un altro Però vabbè Si farà per la prossima volta Se vi è piaciuto Lasciate un bel pollice in su Io ho riprovato Sistemare la scatola Ma Vedo che La scatola non mi collabora molto Eh no Non mi collabora molto Vedo Non mi collabora tanto No E vabbè Dettagli Ah ecco Ce l'ho fatta Olè L'ho risistemata Tanto vabbè Va nel Sacco delle Mondezze De carte cartone E quindi niente ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Se è così Lo le dico di nuovo Lasciate un bel pollice in su E Commentatemi Io vi controllo Vi interagisco con voi E Ho già visto Già un commento Precedente Non so quando Che Mi avete richiesto Cioè mi avete scritto Se io Se tanga a voi Dovei fissare questo commento in alto Io vi fisso quasi tutti Cioè quasi tutti Io vi fisserei tutti no Però a volte siete in tantissimi Già Ma a parte i commenti Sono pochi Pochi Perché Non mi state commentate in tantissimi E E io di follower Non è che ne ho tantissimi Sono sempre un po' alle basi E anche se sono sempre Se sono già Tipo Dal 2016 17 Che sono già Giù su Se sono su youtube Già Da 2017 Quindi sono Già Tre anni Se sono Qui Ma Soprattutto Io tango tantissimo A voi Spero di Strapparvi Un sorriso E niente Noi ci vediamo Al prossimo video E niente Vi mando Un grossissimo Bacione E noi ci vediamo Venerdì Prossimo Per il prossimo Video Super divertente Spero Spero Ciao amori